Siamo qui nel cuore di Porto San Giorgio, vicinissime alla stazione. Oggi riapre Caffè Florian con la sua nuova gestione, aperto dalle prime luci dell'alba fino a tardanotte. Un'occasione per gustare le squisite colazioni e la selezionata pasticceria propria prodotta da caffè a ragno, aperitivi, anche con serate di intrattenimento e squisiti cocktail. Ma adesso entriamo all'interno e scopriamo il nuovo locale. In that dry white ocean alone, lost out in the desert, you are lost out in the desert. But to stand with you in the ring of fire, I'll forget the days gone by. Un elegante gazebo, riscaldato da una stufetta. Ambiente molto elegante e soft, dove passare ore in compagnia. assaggiare gustosi aperitivi in pieno centro qui a Porto San Giorgio. Tutti i migliori cocktail da poter gustare in un ambiente raffinato e moderno qui a Caffè Florian nel centro di Porto San Giorgio. Un'accuratissima selezione di vini, rosso e bianco, da poter gustare con le esquisite preparazioni dolci e salate del Caffè Florian. Ricordiamo tutto di produzione propria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.